buongiorno è il terzo giorno della 125esima fiera cavalli e questa mattina abbiamo con noi quello che per moltissimi è un mito cioè mario luraschi buongiorno mario buongiorno questo uomo è stato quello che ha messo al centro dello spettacolo dell'arte la figura del cascatore partendo dagli indiani d'america siamo arrivati agli show siamo arrivati ai show ai film soprattutto il più importante sulla parte cinematografia e ho conosciuto questa fiera ha veramente all'inizio dell'inizio di tutto è stato veramente e oggi quando si vede il sviluppo del cavallo in italia è una vera meraviglia perché è una cosa che è diventata quando sono venuto qua per la prima volta non c'era un camion per avere un cavallo per trasportare un cavallo e adesso quando vedo tutti i parcheggi pieni pieni di camion meraviglioso o delle gusnec o delle cose che sia americano francese o italiano totale il sviluppo è una meraviglia è molto bello sentirlo da parte sua perché a parte il fatto che è un testimone storico nel senso che ha visto cambiarlo ma è un giudizio che a noi fa molto piacere ovviamente perché vuol dire che in qualche modo siamo cresciuti assolutamente assolutamente penso che gli italiani hanno fatto una riniscenza completa del cavallo e di grande qualità questo è bellissimo detto da lei veramente mi fa piacere è una cosa che ci sembra di vedere ma ovviamente una parola sua vale più di mille nostre ho anche conosciuto cavallo magazine prima che esisteva è vero perché lei conosceva chi l'ha creato si è con Martinelli esattamente il grande giorgio ecco il grande giorgio è stato un grande amico mio prima e più aveva mi sempre mi diceva pensa che possiamo fare una rivista sui cavalli ho detto ma è una cosa che manca veramente terribilmente e tu la devi fare assolutamente perché come lavorava in questo ambiente come giornalista era l'uomo più perfetto per fare questa cosa e l'ha fatta è vero e sa una cosa noi nel paesino dove abitiamo con alcuni amici abbiamo una biblioteca equestre che ha tutti i libri di giorgio martinelli che ci deve essere anche il mio si ce l'ho ce l'ho e c'è anche l'autografo con la dedica a giorgio per cui mi fa tantissimo piacere che lei lo abbia ricordato è stato il maestro di tanti di noi si e ci vuole sempre un maestro esatto esatto esattamente le volte grande piacere che le volte ci guardiamo e siamo noi il maestro questo è una meraviglia sa una cosa che mi sono accorta che hanno in comune i maestri alla semplicità e lei è molto semplice come tutti i grandi maestri devo dire perché perché la più grande lezione che si deve prendere è quella dei cavalli perché un cavallo un puledro non mi conosce non sa che mi chiamo mario luraschi e non ce n'ha nessuna pena di questa cosa e dunque sono io che mi devo adattare e dunque lì dimenticate completamente che siete un maestro solamente il lavoro tranquillo e fare l'educazione del cavallo che è più la cosa più importante non ho più niente da chiederle perché era tutto quello che volevo sentir dire e credo che sia la lezione più importante di tutti perché nel mondo dei cavalli vediamo troppo spesso che ci si arriva a dare importanza e ci si copre di sovrastrutture che non servono a nulla quello che ha detto il maestro luraschi invece è terribilmente importante ed è molto bello direi che delle volte la solo piccola critica che possiamo avere della gente animalista devono devono educarsi perché tante volte fanno una critica di cose che non sanno capita molto spesso molto molto spesso e delle volte fanno molto male alla gente che è appassionata di questa cosa un mondo senza errori non esiste dunque automaticamente si deve avere un'indulgenza delle volte per l'imbecille che ha fatto che non hanno fatto bene per il cavallo ma stesso tempo anche quello che deve imparare che deve sapere ma tanta gente una cosa più importante non si deve mai tagliare la passione è vero è vero e oltretutto la passione è quella che ti fa mantenere la voglia di fare errori per imparare crescere io la ringrazio tantissimo vorrei averla più spesso so che non è possibile ma comunque la ringrazio perché oggi ci ha fatto veramente un grande regalo è un grande piacere anche per me per me di più grazie